L'ultima conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e sullo sviluppo che si è svolta a Rio de Janeiro nel 1992 ha rappresentato un'occasione importante di riflessione sulla convivenza pacifica tra gli esseri umani, le specie viventi e l'intero pianeta. Così Vilma Mazzocco, assessore regionale all'ambiente, è intervenuta in occasione della celebrazione della giornata mondiale della Terra invitando ad una maggiore responsabilità collettiva sulle sorti della natura per garantire il benessere alle prossime generazioni. La giornata mondiale della Terra, ideata in passato da un movimento universitario, è diventata oramai un evento globale dai risvolti educativi. In questo particolare momento, ha detto la Mazzocco, dobbiamo sentirci tutti responsabili della salvaguardia e dell'utilizzo delle risorse naturali come quelle non rinnovabili, della difesa delle specie in via d'estinzione, degli habitat e delle biodiversità. La questione sullo stato di salute del globo terrestre sarà al centro del prossimo summit di Rio de Janeiro, previsto a maggio, dove si riuniranno capi di Stato e di governo giunti da ogni parte del mondo.